convento di lunato buonasera eccoci qui all'arrivo perché abbiamo trovato questa ragazza che stava entrando come ti chiami roberta è questo microfono roberta anche questo ha ne usa due perché lei una professionista roberta dove vieni brescia allora la grande domanda che tutti si stanno facendo è dove credevi saresti andata a messa a messa io credevo a gardaland no sbagliato abbiamo sbagliato tutti e due avete sbagliato tutte e due aspetta che confermiamo allora aspetta chiediamo intanto alle amiche il motivo del costume della vostra amica un pisello perché così proprio un pisello cioè questa definiti senti tale un pisello senti un pisello ma surgelato cotto crudo novello un pisello novello che significa novello e snello che significa come si può dire un toy boy un toy boy perfetto mi sembra molto chiara come spiegazione allora racconta a tutti come si fa a essere così snelli e novelli come te cioè qual è il tuo trucco cosa come fai troppo tanto a certo è semplicemente quello semplicemente quello ma in che tanto lo usi tanto giustamente hanno regalato visto almeno sei sempre sei sempre perfetta ma ci sono dei momenti del giorno o dell'anno in cui è più efficace o quando capita no tutto l'anno va bene perfetto sì perfetto perfetto tutto l'anno perfetto bravissimo questa ragazza mi piace che allora voi 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 dedica voi dire qualcosa qualcuno vuoi salutare qualcuno sì con questo con quello va bene vorrei ringraziare le mie colleghe di lavoro questa state bravissime organizzando questa cosa voglio bene a tutte belle che lavoro fanno le frutti vendole no lavoriamo la conad pubblicità beh ecco perché ci siamo città la conad quindi ci siamo siamo nel nel settore siamo nel settore no reparto gastronomia gastronomia era metà tra un violino e un'asse da stiro questo gastronomia si sa anche gastronomia loro però facciamo allora lei la capa state attenti ok vabbè questa mandiamo fuori adesso ok loro sono neutre freschi gastro 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 interi gastro interi gastro scopia si gastro scopia quella capelli rossi alla cassa l'esta la cassa l'esta la cassa l'esta la casa come si vede la cassiera gastronomia e lei la fighetta della situa la box si si la fighetta della fighetta che in che reparto sta una fighetta sul box a sul box accoglie accoglie accoglienza accoglienza clienti va bene allora vi facciamo salutare tutti insieme chiamiamo anche loro venite unisci di tu allora dal pisello snello novello bello finissimo conad in offerta speciale sono verta sera esatto allora chiudiamo così poi facciamo salutare datti un prezzo per questa sera in che senso beh in sei in offerta speciale a quanto due per uno bis conad due per uno bis perfetto perfetto fissi conad basse persone oltre le cose tutti gli hanno detti tutti gli slogan del 1992 ad oggi ne hanno detti in 10 secondi ragazze buona serata e a presto ciao grazie